come ottenere un prestito velocemente risparmiando un mucchio di soldi e tanto tempo mi occupo di finanza, management e crescita personale se questi argomenti ti interessano lascia un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video oggi sotto segnalazione di tanti miei lettori voglio segnalarti un nuovo sito straordinario è un comparatore di prestiti incredibile uno dei miei video più visti era dedicato proprio ai prestiti oggi voglio segnalarti la possibilità di risparmiare tantissimi soldi in termini di interessi comparando il prestito qua sotto in descrizione troverai un link dove approderai su una pagina il sistema sarà in grado di calcolare e di comparare centinaia di prestiti online per trovare il miglior tasso possibile quello che rende straordinario questo servizio è la possibilità non solo di richiedere un prestito ma anche quella di risparmiare ovviamente salvando i tuoi dati sempre sotto segnalazione di tanti miei lettori mi è stato detto che spesso magari si tenta e si pensa di voler richiedere un finanziamento per poi rendersi conto che in questo momento magari le situazioni sono avverse bene detto questo se hai la necessità di richiedere il tuo prestito allora segui le istruzioni compila e fammi sapere qua sotto nei commenti come ti sei trovato se vuoi approfondire chi sono e se vuoi conoscere la mia storia ti consiglio di andare sul mio sito web www.ciromuto.com potrai leggere la mia storia e potrai dare uno sguardo alle centinaia di migliaia di articoli che ho scritto in questi anni infatti la mia principale attività è quella di condividere con te informazioni di altissimo valore predati da servizi premium di alto livello e per un pubblico specifico bene detto questo non mi resta che salutarti e di ricordarti il motivo per cui sei finito su questo video ovvero il tuo prestito online affrittati di rendere un preventivo e clicca sul link qua sotto per procedere grazie a tutti grazie a tutti